Forse tu l'hanno voluto far credere, e tu ci hai creduto, che ogni giorno quando sei sul campo, quando sei davanti al tuo potenziale cliente o al tuo cliente, gli vendi un prodotto o un servizio. No, ricorda questo, non vendi un prodotto o un servizio, vendi una soluzione a un determinato problema o una risposta a un bisogno concreto. Ma ancora di più sai quello che vendi. Vendi una relazione e un'esperienza. Quindi trova, o ancora meglio, fatti trovare dalle persone o dalle aziende che hanno quel problema o quel bisogno specifico e aiutare a godere dei benefici che stanno cercando. Fallo considerando questa semplice formula relazione più esperienza positiva più soluzione concreta personalizzata uguale vendita. Ci vediamo nel prossimo episodio di vendita in 60 secondi.